Cari amici, un video importante, vi chiedo la massima attenzione per un progetto editoriale importante con un duplice scopo, quello di contribuire a fare chiarezza sulla storia recente della nostra Repubblica e quello non meno importante di favorire l'inserimento lavorativo di ragazzi autistici nell'ambito di gelaterie di prossima apertura. Quindi più che parlare in questo video è importante mostrare, mostrare questo, questo volume che appunto offre le mani. La verità di Salvatore Baiardo, volume che troverete da lunedì 6 novembre 2023 su Amazon al prezzo di 20 euro. Appunto più che parlare, ripeto e ribadisco, è importante mostrare. Il libro c'è, il volume c'è, eccolo qua e lo potrete avere ordinandolo su Amazon. Veramente interessante il contenuto, veramente importante lo scopo dell'iniziativa. Per il resto non credo di dover aggiungere altro, non credo di dover parlare oltre perché nel libro e non solo parlerà Baiardo, parlerà Salvatore Baiardo e come se parlerà e come se ha parlato.